L'associazione è cresciuta molto dal 2009 ad oggi, ha basi molto solide, molto più strutturata e quindi l'auspicio è quello che possa crescere in parallelo con il reparto di radioterapia oncologica pediatrica a sostenere quelle che sono le nuove sfide. Le nuove sfide sono quelle di cercare di ampliare il reparto, grazie e ringrazio per questo la ASL Anciano Vasto Chieti, il direttore generale della Regione Abruzzo, l'Università di Chieti. L'obiettivo è quello di ridurre e abbattere le liste di attesa e cercare di implementare questa sezione di radioterapia oncologica pediatrica che per la nostra Regione sarebbe una connotazione veramente importante e potrebbe veramente essere di ausilio a tante famiglie non solo della nostra Regione ma anche con un'attrattività delle Regioni limitrofe. Diciamo che queste sono le due direttive principali, direttive che chiaramente impongono anche tutta una serie di attività a sostegno collaterali che devono sostenere un salto di qualità ed un ampliamento del reparto che tutti ci ospichiamo. Per la Pasqua del 2022, prima dell'estate, ritorneremo a avere la seconda dotazione dell'acceleratore lineare e l'obiettivo è quello di ampliare il reparto e andare incontro a quelle che sono le domande di radioterapia e il progetto della radioterapia pediatrica che ricordo però sempre in sinergia con l'onquematologia pediatrica di Pescara e con un network che riguarda i reparti pediatrici dell'area metropolitana Chieti-Pescara. Queste sono le due direttive principali che l'associazione si pone per il prossimo quadriennio che partirà con l'elezione del nuovo direttivo e del nuovo presidente di questa sera. Colgo l'occasione di ringraziare il presidente uscente, il consiglio direttivo uscente, l'architetto Mario Dinizio e tutto il consiglio direttivo per la grande opera e la grande crescita che questa associazione ha saputo avere e dare veramente un supporto importantissimo al reparto in termini di servizi per i pazienti, in termini di umanizzazione del reparto e di tutte quelle che sono le utilità ai pazienti e ai loro familiari.